La situazione dei rifiuti a Taranto è a dir poco tragica, una raccolta differenziata che non funziona affatto e vengono fatte delle scelte in successione, scelte le une peggiori delle altre. Avete visto le campane, chiamiamole i cassonetti, soprattutto in centro per la differenziata che erano insufficienti, motivo per il quale tutto intorno la zona traboccava di rifiuti. Ora sono stati messi queste campane, chiamiamole i cassonetti campane, per la differenziata e ci troviamo in via Messapia stesso problema. Guardate che schifo, ci sono purtroppo altri rifiuti al di fuori, ma non perché il cittadino è incivile e non si degna di conferire i rifiuti all'interno delle campane, ma perché le campane sono ancora una volta insufficienti, motivo per il quale i rifiuti, i sacchetti, la mondezza, passatemi questa espressione, giace qui. Questa è l'immagine, signori cari, di Taranto. Questo è quanto ha prodotto l'amministrazione Melucci-Musillo. Sì, Melucci che ha scelto ovviamente i vertici dell'amio, delle varie partecipate, e il signor Musillo che con Melucci ha amministrato per quattro anni e mezzo. Siamo in via Messapia, sono le 23, guardate cosa c'è. Dunque i vecchi cassonetti, le vecchie campane non andavano bene, abbiamo messo le nuove. Posso darvi un consiglio, signori amministratori, signori dell'amio, Melucci, Musillo? Fatevi un giro nelle altre città italiane e chiedete con umiltà come si fa la differenziata. Sicuramente vi sapranno dare dei suggerimenti che eviteranno ai tarantini questo scempio. E siamo in una zona, come dire, migliore, tra virgolette, delle altre. Poi vi faremo vedere tutto il resto. Questa è una città turistica, caro Melucci, caro Musillo. Lo ripeto, entrambi avete amministrato per quattro anni e mezzo. Tu Musillo avevi i tuoi uomini nelle partecipate e avevi tua cugina assessore, caro Valterino Musillo. Questa è davvero Taranto, come lui Musillo si diverte a giocare sulla W di Valter, davvero Taranto. Ecco davvero. E tu Musillo hai davvero, o da uero, giocando con la W di Valter, amministrato con Melucci. E questi sono i risultati. Questa è l'immagine dell'amministrazione Melucci-Musillo. Questi sono i risultati. Allora, cari cittadini di Taranto, cosa volete fare? Volete fare la differenziata ed è giusto che la facciate con questi risultati e con Melucci o Musillo, perché ora si sono divisi, almeno in apparenza. Però alla fine, se voterete Melucci o voterete Musillo, voi vi ritroverete questa Taranto. Oppure volete assolutamente voltare pagina e dare fiducia al sottoscritto che ha lottato per 21 anni contro il sistema, contro tutte le amministrazioni di destra e di sinistra, di centro-destra e di centro-sinistra. Quante volte, quante migliaia di segnalazioni ho raccolto e quante altre volte dopo averle raccolte le ho tradotte in video, in servizi giornalistici. Per Taranto ho sempre lottato, non è il mio slogan, è la mia storia, è la mia vita, per questo chiedo la vostra fiducia. Se poi vi sta bene la situazione così com'è, vi sta bene il degrado, bene, continuate a votare o Melucci o Musillo. Buon voto Tarantini! Buon voto Tarantini!